L'ottenzionamento del palo che ha fatto fare le equilibri Il fiore di disturbo da parte dei suoi compagni di squadra Il fiore di disturbo da parte dei suoi compagni di squadra Il fiore di disturbo da parte dei suoi compagni di squadra Il fiore di disturbo da parte dei suoi compagni da parte dei suoi compagni di squadra Grazie a tutti.